Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale! Allora, il video dove una delle due si bendava nelle squadre, cioè Melissa e Nelly, si bendavano e Ginevra e Sara le guidavano, è arrivata a 200 like, quindi come avevamo promesso, oggi facciamo il contrario. La prima a bendarsi sarà Ginevra e dopo toccherà la Sara. Nelly e Melly dovranno guidarle. Siete pronte? Ginevra è bendata, pronta, un po' impaurita. Ok, Nelly è pronta a guidarla? 3, 2, 1, via! Parla forte! Adesso devi alzare un sacco la gamba, scavalcare, berrarla, vai! L'hai toccato? No, non so neanche che cosa era. Un passettino mignone, ok, un'altra volta al piede tanto tanto, breve, avanti, no, ferma, ferma, un po' a sinistra, ok, e adesso girati di poco, dove? A sinistra sempre, troppo, ok, avanti. Diggi dov'è? Dove sono? Stai in mezzo a due tappeti, un pochino più a destra, ok, più avanti, no, a destra. T'ha toccato! Un punto perso. No, a destra, no, di più, dritta, no, a sinistra, girati a sinistra, ancora, troppo, ok, avanti. Vai dritta, attenta, stop, un po' più a destra, avanti. Ok, stop, stop, ok, adesso avanti. Siete velocissime, eh? Un po' a destra, ok, metti un chino, vedo, mettiti giù, la gallina, vai avanti, un po' a destra, giudati, un po' a destra, no, ancora di più, ok, metti dritta, un po' più a destra, un pochino a destra, ancora, vai, ok, adesso vai dritta. Bravi! Alzati, stop, vieni a sinistra, un altro pochino, ok, avanti, ancora un pochino, stop, stop, adesso a destra, dove sono? No, non mi senti, ancora un pochino, ok, avanti. Un po' a destra, no, a sinistra, va bene, adesso vai dritta, ok, stop, un altro pochino, piccolo, ok, un po' a destra, va bene, alza il piede che c'è la trave, ok, avanti, vai avanti, un po' a sinistra, ok, vai avanti, ancora, sinistra, ancora, avanti, stop, vai il laterale a sinistra, attenta, attenta, un po' per indietro, ok, vai, ancora, no, aspetta, attenta, ancora un pochino, no, adesso ti puoi sedere. Oh yes, bravissime, com'era? Meglio del mio! Sì, ma come, come tempo ci ha messo pochissimo, l'anale è stata molto brava, allora, di cosi cosa avete fatto? Di attrezzi? Tre! Due! Ha toccato il, lo step all'inizio, il materasso? Tre volte, materasso? Oh, sei uscita qui, il materasso e la sedia, mi sa? No, no, qua, lo step e il materasso. Allora, tre volte, allora, sette punti e avete fatto tre minuti e zero tre, super brave, bravissime, Tocca alle piccolette, portiamola Sara all'inizio, pianino, pianino, ci vedi? Sì, adesso no. Ok, attenta ai materassi, dalle la mano. Dai, 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 no, ma devi portarla là, dalla riga. Girati, un passo indietro, ve lo ricordate tre minuti e zero tre voi, vero? Ok. Pronte, aspetta, aspetta, non ho detto via, ferma. Tre, due, uno, via. Toccato. Ma come avanti, dove la mandi? Sì, girati a sinistra, fai un passo di lato, a sinistra, di lato, sì, a sinistra. Scavalca, attento, dove scavalca? Da che parte? Dille dove! In avanti, ma molto lontano, devi dire. Lontano. Vai, scavalca una cosa molto grande. Puoi dirgli cos'è? Certo. Scavalca! Scavalca! Toccato! Vai, un passo di lato a destra, ancora, ancora. Gira un po' a destra, un po' a destra, un po' a destra. Perfetto. Gira sia a destra e a sinistra. Occhio! Un po' a destra, un po' a destra. Così. Dritto, 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 fai un passo di la copa a destra, tirati. Oddio, girati un po' a sinistra, un passo di lato a sinistra, girati un po' a destra, avanti. Basta la testa, eh? Avete questi ponci? Occhio. Ma diglielo, non la lasciare sbattere. Ha toccato. La Bellissi mette le mani così e la lascia sbattere. Avanti, girati un po' a sinistra, avanti, un po' a sinistra. Tra, sinistra, girati. Dritto, 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 fai un passo di lato a sinistra, piccolo, lato, tasso di lato a sinistra. Piccolo? Ancora. Brava, vai. No, ma come? Guarda cosa ha davanti. Se la fai scavalcare, va... Melli, come fai a farla scavalcare lì? La fai sbattere lì contro? No, fai... No, non ha toccato. Ma non la vede. Ma non la vede! Non puoi diglielo così. Avanti, 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 avanti. E passi di lato a sinistra. Al fuori. Fuori. Di lato. Dirati un po' a sinistra. Fai un passo a sinistra. Di lato. Di lato, ancora. Vai, di lato. Siediti. Siediti. Ok! Ok! Sara, com'è stato? Non è stato bello. Non è stato bello? Ok! Allora, questa sfida... Allora, Sara e Melli hanno toccato quattro volte o cinque? Cinque volte. Quindi cinque punti e avete fatto cinque minuti esatti. Allora, diciamo che a guidare sono state più brave l'Anelli e la Melli. L'Anelli e la Melli. Perché ci hanno messo pochissimo. O voi siete state più brave da bendate, non lo so. Però questa sfida l'hanno vinta Ginevra e Nelli. Ehm... Salutiamo? Saluta? Non tiratela! Vai! Saluta con la fascia. Vai! Ciao! Saluta! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ci rivedremo nel prossimo video! Ok! Lasciate tanti like se volete che questo video lo rifaremo con percorsi diversi. E magari anche con l'Elena e la Chiara! Ciao! Ciao a tutti!